Gentili telespettatori, grazie ai nostri sponsor ancora una volta per essere, per avere fiducia in questa trasmissione, per essere quindi a fianco a noi, presenti nella produzione di questa rubrica giornaliera, questa trasmissione giornaliera che viene condotta in maniera alternata da me e da Felice Griesi. Prima di cominciare non possiamo non dire ciò che è accaduto due giorni fa, lasciatemelo dire, con un po' di amarezza in bocca, nell'era di internet, dei call center che ti chiamano a tutte le ore, sapendo tutto di te, non c'è più privacy, sanno tutto con chi sei abbonato, con quanto paghi, sanno tutto di tutto, ebbene in quest'era dove la comunicazione è un fatto prioritario, va via la corrente ad un intero quartiere per due gocce d'acqua e si rimane al buio in questo quartiere popoloso per circa 4-5 ore. Questo è quello che è accaduto qualche giorno fa, due giorni fa, la cosa è estremamente vergognosa e se poi a chiamare non è l'utente che deve superare poi gli ostacoli anche dei risponditori automatici, perché per parlare con qualcuno, con una persona, per riuscire a dialogare, devi superare i risponditori automatici che questi gestori, potentissimi gestori di telefonia, di energia elettrica, hanno inserito per risparmiare anche sul personale, attenzione questa è la motivazione, cioè loro risparmiano su tutto e mettono anche i risponditori. E allora quando riesci alla fine a parlare con qualcuno, non serve dirgli l'indirizzo, da dove chiami, perché questo umano che risponde dall'altro lato si trova chissà dove, non sa nemmeno dove si trova Altamura sulla cartina geografica e quindi come si fa per individuare il posto esatto? Devi comunicare una serie di dati che si trovano in bolletta, quindi un altro disservizio nel disservizio, cioè se non sei in grado di farlo rimani al buio perché non sanno individuare dove ti trovi, questo è un altro problema della nostra Italia. E allora, dicevo, se non avessimo chiamato non avrebbero saputo che mancava la corrente e chissà quando l'avremmo avuta, così come è successo anche l'anno scorso, due anni fa, tre anni fa, ogni anno si ripetono questi disservizi, questi episodi. In una Italia invece dove, ripeto, ti contattano a tutte le ore, dove il governo pensa ad agevolare questi grossi gestori, anziché pensare all'utenza, pensa ad agevolare questi gestori dandogli la possibilità di fatturare ogni 28 giorni e non ogni mese, come si faceva prima, questo è l'attenzione che i governi riservano alla gente, all'utenza, ai cittadini che pagano le tasse. Ma chiudiamo qui, l'argomento era giusto uno sfogo che andava fatto perché dobbiamo ricordarci di dove, quello che facciamo, dove siamo, di che paese facciamo parte, dobbiamo ricordarcene ogni tanto, perché altrimenti se non sappiamo da dove veniamo non sapremo mai dove vogliamo andare. E dopo questo sfogo, speriamo che mi sia stato, diciamo, sia stato utile per qualcuno, dopo questo sfogo, cominciamo la trasmissione di oggi parlando di tutt'altro con Pinuccio Colonnai che è presidente dell'Associazione Italiana Amici del Presepio, che abbiamo qui con Presepio o Presepe, questo è un altro dramma. Noi usiamo il termine arcaico, Presepio, si può dire anche Presepe, il termine modale. Finuccio, tu sei stato anche politico, per tanti anni ti interessi ancora di politica ovviamente, non è che uno ne esce fuori del tutto, ti interessi anche di ciò che accade in questa città, ma anche nella nostra nazione. Tu hai una ricetta per quello che ho detto, hai una ricetta per migliorare le cose in Italia? Cosa bisogna fare? Cosa deve accadere? E' attratto la mia attenzione quando hai usato il termine sfogo, non hai fatto uno sfogo, hai fatto informazione, hai informato i cittadini di un evento che si è verificato due giorni fa, la mancante della luce in un dire quartiere. Quindi non è sfogo, ma è giusta informazione. Allora, la ricetta per l'Italia, che domanda difficile mi fai? E bisogna dare una bella risposta. La politica si viene fatta per passione, per spirito civico e non per mestiere, da sempre risultati positivi per il paese. Questa è la mia risposta. E c'è anche una carenza di classe dirigente, perché se le risposte non sono adeguate alle esigenze di un paese, noi vogliamo parlare del paese Italia, non parliamo a livello locale, chiaramente. Quindi ci vuole una classe dirigente più adeguata, più all'altezza dei tempi. I tempi che stiamo attraversando sono tempi difficili per l'economia e per il lavoro. E con il mio lavoro dovrebbero essere le priorità in testa alla nuova classe politica. Se questa nuova classe politica non è adeguata ai tempi che stiamo vivendo, tempi di crisi economica, allora i risultati non sono possibili. che hanno fatto tale miracolo. Ecco perché dico, oggi occorre guardare più alle cose concrete e meno agli aspetti ideologici, perché questi aspetti ideologici con il sistema della globalizzazione sono venuti a mancare, sono gli aspetti ideologici che sono andati in crisi. Quindi le forze politiche in campo dovrebbero dare al cittadino le risposte invece di satteli. E quali sono le risposte? Le abbiamo già detto prima. Prima o poi metterei il lavoro. Certo. Soprattutto il lavoro per i ragazzi, per i giovani. Cioè noi staremo meglio quando smetteremo di esportare i nostri cervelli e di importare gli immigrati. Forse allora la crisi sarà terminata, però al momento sembra che stiamo ancora esportando i nostri cervelli. Vanno fuori, vanno fuori Italia per poter lavorare, per poter studiare. È così. Allora, i nostri cervelli se vanno all'estero vanno anche per formarsi. Questo vanno anche evidenziato. Non vanno solo perché... Manca il lavoro. Cioè il lavoro manca. Però il fatto che molti ragazzi laureati con il massimo dei voti vanno all'estero. Vanno anche per arricchire la propria formazione professionale. Ed è un fatto positivo per l'Italia. Perché se questi ragazzi poi ritornano all'Italia, offriranno qualcosa in più quando mai. Io, se vedi, non dobbiamo... Noi che abbiamo fatto Poli, che l'abbiamo fatto, quando i partiti avevano ruolo a contare, dobbiamo creare sfiducia. Cioè non dobbiamo avere un atteggiamento pessimistico nei confronti... Dobbiamo ancora crederci. Se non ci crediamo noi che abbiamo realizzato il nostro avvenire e non creiamo fiducia nei nuovi giovani, beh questo li mandiamo ancora di più allo sbando. I giovani hanno bisogno delle indicazioni forti. Quindi noi avevamo una speranza ai nostri tempi. Anche se eravamo... Anche se guiderano più po'. Però la speranza qual'era? Che avevamo la certezza del lavoro. Osti già questa certezza non ce l'ha. E noi abbiamo una responsabilità morale pesante. Questa è una bella discussione. Questa abbiamo una responsabilità pesante noi. Di creare nuova fiducia in questi ragazzi. Solo così possiamo sostenere in maniera concreta questi ragazzi che vanno fuori. Hai fatto riferimento agli immigrati. Sì, il fenomeno dell'immigrazione è un fenomeno che deve preoccupare. Deve preoccupare, non solita, ma tutti... Sì, nessuno ce l'ha con loro, ci mancherebbe. Ma deve preoccupare, deve preoccupare tutto il paese. Ma non solo l'Italia, di tutti i paesi dell'Unione Europea. Poi tra l'altro... Delle dell'Europa. Quando ho fatto questa prefazione all'inizio della trasmissione, parlandovi dell'energia elettrica, ovviamente non ce l'ho con gli unici due operai, probabilmente, che devono sistemare i guasti in una zona così vasta, perché anche su quello hanno ridotto il personale, hanno ridotto i costi, queste grosse compagnie. Cioè, offrendoci energia elettrica e servizi a costi esageratissimi, siamo forse i più cari in Europa, ma forse pure nel mondo, non lo so, cioè, poi riducono anche il personale, cioè, per un servizio che non c'è, in realtà, non c'è un'eccellenza dell'assistenza nel servizio. Perché c'è carangia di personale? Perché non si fanno le nuove assunzioni. No, perché devono ridurre i costi, innanzitutto. Queste sono società che per ridurre i costi, per guadagnare di più, addirittura riducono. Anche questo aspetto di ridurre i costi, ma anche per carangia di personale. Stiamo a dire, vabbè, chiudiamo questo argomento, quindi andiamo avanti con la trasmissione, parleremo di politica anche in altre circostanze. Un atteggiamento di accogliente con un'economia non lo dovremmo avere. No, assolutamente. Non dobbiamo certamente avere un atteggiamento di accettare in maniera passiva. Io dicevo, già questo fenomeno dovrebbe lasciarci riflettere, cioè, dovremmo pensarci, perché i nostri vanno via e gli immigrati arrivano in Italia, è un fenomeno che non funziona. La risposta è se vanno via, perché manca i lavori in Italia. Ed è quello che non funziona, esatto. E quindi il primo posto è il lavoro per i giovani. Ogni governo dovrebbe mettere al primo posto il lavoro per i nostri chiedi. È una nazione che si sta giocando il proprio futuro. Sì, sì, questa frase mi piace. Vabbè, ce lo siamo... Rischiamo di giocarci il futuro dei giovani. Certo, parliamo invece di cose diverse, non parliamo di politica in questo momento. Io ne ho approfittato, perché la tua esperienza è sempre di aiuto in queste circostanze, in ogni momento. Però parliamo della tua attività come presidente di questa associazione nazionale, che è diventata ormai famosissima. Insomma, complimenti. State facendo un bel lavoro da diversi anni e... Diciamo, il tempo vi sta ripagando di quello che state facendo. Diciamo, a chi ci vedrà già, a chi vedrà questa trasmissione. E la passione per il presepio mi è stata trasmessa da chi ha voluto l'associazione ad Altamun nel 1983. Antonecola, mio padre. Il papà. Questa passione, questa non c'è più... Questa passione mi è rimasta e stiamo andando avanti. Scusa, aggiusto il microfono che si è nel frattempo girato, tanto siamo... Stiamo andando avanti, in maniera ininterrotta, da 37 anni. Siamo alla 37esima rassegna artigianale del presepio artistico. Questa rassegna prevede per il 2017 due inaugurazioni, quindi gli sforzi sono adoppiati. La prima inaugurazione avverrà presso l'Istituto di Santa Croce, in via Santa Croce e Seghi. Alle ore 19 si sarà la prima inaugurazione. Questa però è la mostra che sarà aperta al pubblico. Aperta al pubblico dal 19 dicembre al 7 gennaio. Allora, i presepi che andranno in mostra a Santa Croce, a via Santa Croce, sono i presepi che si stanno realizzando all'interno del laboratorio artigianale del presepio, allestito dall'Associazione Italiana Amici del Presepio, presso il centro sociale Polivalente per gli Anziani. Il 4 settembre noi come associazione abbiamo allestito questo laboratorio artigianale. Parteciano la realizzazione dei presepi da mettere in mostra presso questa struttura otto ragazzi diversamente abili del ospite del centro Anfas, più alcuni ragazzi dalle scuole elementari e scuole medie. Io quando vedo questi ragazzi diversamente impegnati a costruire i presepi, lo dico soprattutto a chi ci vedrà questa trasmissione, provo un senso di vera emozione. L'emozione è forte per questi ragazzi. E grazie a profitto di questa intervista che mi stai facendo, Arturo, va al responsabile del laboratorio che noi abbiamo nominato, una persona, Nicola III, una persona squisita, con tanta amore con fronte di questi ragazzi. Nicola III. Devo citare qualche altro nome, altrimenti farei un torto. Dei Bernasi Giuseppe, Leonardo Beltempo, poi ci sono delle mamme che portano i loro ragazzi, che sono impegnati con i propri ragazzi. E c'è questa, un'ultima grande rivelazione per me, sono due persone che voglio citare ora, Nicola Losacco e tutta Michele. Si sono inserite la prima volta e stanno dando risultati brillanti. Io oso dire, e non credo che sarò smentito dai risultati, che le opere di questa rassegna saranno di particolare rilevanza artistica. E stiamo parlando della prima inaugurazione, che avverrà il martedì 19 dicembre, alle ore 19. Poi ci sarà la seconda inaugurazione, quindi gli sforzi sono doppi, la seconda inaugurazione avverrà presso la sede legale dell'Associazione Italiana Amici del Presepio, in via Giannelli, alle ore 20. E pensiamo di avere per la presentazione delle opere la presenza di sua eccellenza, l'Arcivesco Monsignor Giovanni Ricchiuti. Nella sede nostra faremo un'inaugurazione di particolare rilevanza culturale e artistica. Sarà una bella sorpresa. Non dico altro, i visitatori avranno il piacere di verificare questa bella sorpresa. Anche perché saremmo impegnati. Le nostre mostre, le nostre mostre attirano anche turismo. Le nostre mostre hanno un'attività di turismo. Cavolo, a pieni turisti. Abbiamo un registro dove facciamo firmare a visitatori. I giudizi sono veramente di una... molto forte, nel senso positivo. Positivi. Sono tutti positivi. Che ci vogliono a continuare, a proseguire in questa strada. Le scuole partecipano pure. Io lo dico ora agli amministratori locali, perché questa iniziativa che va avanti in interrottamento da 37 anni, che si è andata avanti senza interruzione, perché ci abbiamo messo la nostra disponibilità a servizio della cultura e del turismo in maniera disinteressata. Non abbiamo nessun ritorno economico. Lo facciamo per spirito di passione. Ebbene che questi aspetti vengano chiariti. Noi non siamo un'associazione che svolge attività, lucrativa. Siamo un'associazione di volontari, a servire della cultura e del turismo. Attirano turisti in maniera consistente. E ne gioca il territorio, ne gioca il piccolo commercio, ne gioca il panificatore. Noi ci rendiamo conto. Poi ci sono i giudizi, lo singhè che vengono dai turisti. Sono attività che... Sono tutti documenti agli atti dall'associazione. Che fanno bene alla nostra città. Se va avanti da 37 anni, vuol dire che questa associazione ha salvato a seminare bene per sviluppare valori concreti. Il valore dell'amicizia, della pace e della fratellanza. Perché il presevo rappresenta anche questi valori. Dicevi, parla di questi valori. Bene, allora, grazie a Pinuccio Colonna per essere stato qui con noi. Noi, come ogni anno, seguiremo le vostre attività. Voi lo sapete, Canale 2 è attenta a questi... a quello che fate, a queste vostre attività che ogni anno realizzate per la città. Probabilmente, lo dico, a propiettivo, siamo in chiusura, vero? Sì, sì. Probabilmente il 2018 ci fermeremo. In che senso? Ci fermeremo. Ci prenderemo un anno di pausa. Sarà un anno di riflessione, probabilmente, o no? A che servirà? C'è un motivo? Servirà a fare il punto della situazione. Beh, va bene. Abbiamo bisogno di segnali... Più forti. Più forti da parte di chi gestisce la corsa pubblica a livello locale. Non parlo dell'aspetto economico. Sì, sì. Di attenzione. Avete bisogno di maggiore attenzione. Noi stiamo affrontando il laboratorio. Eppure c'è un assessorato che tra l'altro è rientrato in vigore. È rientrato in vigore. Spero di poterlo in contatto quanto prima. Stiamo affrontando il laboratorio con le nostre risorse, quindi non andiamo a chiedere sponsor a nessuno, anche perché... Non siamo portati. Posso fare una battuta che non c'entra nulla? Ma no, no. Sicuramente. Allora, Canale 2, quando c'è stato il commissario, ha trasmesso la campagna, guarda caso, la campagna pubblicitaria sulla raccolta differenziata che non andava in onda da anni. Ora non c'è più di nuovo la campagna pubblicitaria sulla raccolta differenziata. Chiariamoci. Va bene. Grazie allora. Chi vuol capire... Va bene. Grazie a tutti. Allora, grazie a Pinuccio Colonna per essere stato qui con noi. Grazie a Canale 2 che ci offride queste occasioni per poter rappresentare questi eventi. Grazie a voi, grazie a voi come sempre. Grazie a voi per l'impegno. Grazie. A risentirci a domani, a risentirci da Arturo Castoro. Domani non perdete l'appuntamento con Felice Grixi. Com'è andata?